buongiorno buon pomeriggio e direi pure buon eccoci qua con un nuovo brillante svuota la spesa e lancia le borse con tantissime tantissime novità ma proprio neanche una allora ho speso 68 e 71 sarebbero stati 78 e 61 però 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 avevo i mille punti ogni mille punti puoi tirar giù 10 euro e come vedete non so se vedete spero vedete comunque se non vedete fidatevi ho pagato 10 euro in meno ma vi faccio vedere la mia spesa cominciamo con i detersivi dato che sono qua fuori detersivi allora ho preso due di queste che le ho viste che erano in offerta non so come mai l'altra volta mi sono scappate che non le ho prese però ho preso queste a mochina superfici spray elimina 99,999 dei batteri eccole qua due di queste non mi ricordo erano un euro e non mi ricordo comunque due di queste che le metterò nella mia scorta dei detersivi poi altro detersivo ce l'avevo qua giuro ma non ce l'ho più ma dopo mi verrà in mano il detersivo poi ho preso 1 2 e 3 che metterò in freezer di pane il solito pamboccone che metterò in freezer a me pane integrale stavolta non me ne son preso perché c'ho ancora in freezer il pane che mi ero comprato l'ultima volta perché appunto come sapete non vado matta per il pane e anche se non ci fosse starei bene lo stesso almeno quello e qua è già la prima borsa lì vi ho messo l'acqua una confezione di acqua naturale copp allora poi qua c'è una borsina piccola ma è perché ci sono entri surgelati e c'è dentro uno di soffritto e ci sono dentro i gamberetti boreali sgusciati che devo fare un mukbang che vedrete non so se vedrete prima questo video e dopo il mukbang o se vedrete prima il mukbang e dopo questo video comunque chi se ne frega ecco e qua è già la seconda borsa terza borsa il mio salmone come sempre il mio salmone affunicato una poi una di trentingrana poi ho preso un cavolfiore che devo fare devo fare le polpette ok mio figlio mi ha chiesto se gli faccio le polpette perciò ho preso un cavolfiore in settimana farò le polpette può essere anche che faccia il video non ve lo prometto può essere che faccia pure il video comunque l'ho preso per fare le polpette poi ho preso due di questi che il dritto dov'è vabbè due litri di latte alta digeribilità e senza lattosio sempre per chi soffre di squaraus e qua è già un'altra borsa eccolo qua il detersivo ho preso questo che era in offerta spu crema sapone crema marsiglia con saponi originali naturali con antibatterico dermatologicamente testato questo qua ho preso per non è per lavar le mani ma è un sapone liquido per lavare la roba no ecco l'ho preso lo tengo in bagno e almeno penso che sia però ho sbagliato la tradizione sapone ad espome champagne nasce il sapone liquido marsiglia un detergente per la pelle arricchito con sapone originale la sua forma ma non è per lavare non è per lavar la roba io ho visto male ho capito male è sì questo è per l'igiene per l'igiene quotidiana di tutta la famiglia per le mani il viso sapete co perché ho visto spuma di champagne no e ho visto questo siccome che io tempo fa ma molto tempo fa all'acqua e sapone avevo comprato uno di questi però era più grande liquido per lavare la roba a mano capito spuma di champagne e quando ho visto questo in offerta pensavo appunto fosse come quello che avevo comprato di fatto io ho detto o ai boh guarda il comodo lo tengo in bagno perché ogni tanto lavo a mano magari se ho poca roba due tre robe capito in bagno due tre calzini o le mutande così tante volte mi metto nel lavandino acqua calda e le lavo a mano no ecco perciò ho detto lo tengo in bagno per lavare e invece no invece è questo proprio sapone mi sono lasciata confondere dall'immagine vedendo vedete che c'è sulla saponetta lega e pensavo che fosse quello per lavar la roba vabbè poco ce ne frega lo userò è shampoo e in bagno lo userò in bagno come shampoo no shampoo come si lascia sulla pelle delle mani del viso un delicato profumo fammi sentire che sa proprio sa proprio di sapone marsiglia sa proprio di sapone come quello che lavi le robe secondo me questo va bene anche per lavar la roba vabbè comunque ho preso questo poi ho preso ho preso ci sarà il totofungo totofunghi non lo so a due ne ho presi manco uno non mi ricordavo più due ne avevo ma aspettate ciò qua l'ordine ma voglio vedere ne avevo presi 21 vediamo perché qua gli mando l'email con l'ordine dove 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 è difatti me ne hanno dato due ma io ne avevo un sapone liquido spuma di champagne offerta e me ne hanno messi due o si sono sbagliati e sono tutti e due uguali si sono tutti e due o forse c'era il 2 per uno di questi per quello me ne hanno dato uno ma voglio vedere solo scusate lo so che voi state lì e dite no però io sono curiosa di vedere mo allora di terra è un china la mucchina non c'entra un ca il sapone marsiglia eccolo qua è un euro e 75 meno 46 praticamente costa un euro e 20 ma non c'è il due per uno offerta sapone vabbè comunque sono 22 ok allora continuiamo poi ho preso le carote carote poi ho preso un sacchettino di pan grattato appunto perché devo fare le polpette e quando le faccio per me perché ne farò di due tipi farò per me senza pane grattato e per mio figlio invece le farò col pane grattato ecco perciò gli ho preso il pan grattato per il toto funghi 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 ho preso 4 funghi champignon perché era gli ultimi due giorni di offerta costavano su 60 70 centesimi al alla scatolina qua perciò ne ho presi 4 per averli poi ho preso uno di passata di pomodoro mutti poi ho preso uno di uova uno di uova poi ho preso due le solite di coca cola zero coca cola zero ne ho prese due e vai un'altra e andiamo con un'altra borsa l'altra borsa c'è guardate cosa ho preso non volevo perché sono cari però ne avevo troppa voglia guardate cosa ho preso non uno ma due guardate la meravigliosità guardate la meravigliosità mirtilli e lamponi ah che profumo che sanno sti lamponi mamma che buoni erano ugualmente cari perché mo ve lo dico quanto l'ho pagata no amore non c'è niente per te sai non c'è niente mo vi dico quanto l'ho pagati allora passata funghi no pane grattugiato no funghi misto soffritto cavolfiore fonduca salmone pane gamberetti i gamberetti me coglioni 5 euro e 80 un sacchettino di gamberetti e sono carissimi sono questa qua 5 euro e 80 quanti etti sono due etti due etti non trovo questi qua rose beef coca cola zero sapone funghi eccolo qua bis lamponi mirtilli allora stanno 3 95 meno 1 e 56 perciò 3 95 2 95 e stanno a 2 euro e 40 centesimi più o meno più o meno sui 2 euro e 40 centesimi sono e sono due etti e due etti credo no due etti un etto di lamponi e un etto di di si un etto di lamponi e un etto di sono bellissime ste cose qua eh perché sono veramente belle guardavo se ce n'era dentro di magari andate a male no sono tutte belle proprio sono proprio belle guardate che belle cicciotte sono belle anche i lamponi eh per carità sono care lo so però ragazzi visto che lo sapete che non posso mangiare nessun tipo di frutta mangerei di tutto io vi giuro mangerei poi adesso che vengono le albicocche le pesche che io ci andavo matta le ciliegie non posso mangiare niente non posso mangiare niente ah poi ho preso anche due banane tiriamole fuori da qua due banane perché ho detto magari mi faccio tipo una macedonia con la banana i lamponi e i mirtilli ecco così ho preso due banane poi qua ho preso il rosbif rosbif e la bresaula due etti di rosbif per stasera Giovanni gli do quello e la bresaula penso di mangiarla io quella stasera poi qua ho preso le zucchine ho preso 4 5 4 zucchine le prendo contate perché altrimenti cioè le metti dentro cioè io ho notato le metti dentro che sono dure e le tiri fuori due giorni dopo sono mosce cioè le metti dentro cioè adesso sono belle dure e poi le tiri fuori sono tutte mosciarelle cioè io non lo so se capita anche a voi che mettete dentro dure e viene fuori poi ho comprato allora qua c'è mezzo chilo di spezzatino 558 grammi di spezzatino misto per Giovanni che gli faccio lo spezzatino amore non c'è niente e il pollo e il pollo 5 bistecca di pollo e spezzatino misto basta questa è tutta la mia spesa non ho preso altro ho speso non ho comprato tantissima roba perché appunto riso pasta a parte che pasta non ne mangiamo praticamente mai anche grana ne ho preso uno per averlo lì però con la scusa che non mangiamo neanche più pasta il grana non è che lo stiamo usando tanto capito perciò ne ho preso uno per averlo qua verdura ho preso le zucchine le carote e il cavolfiore in frigo c'ho ancora anche i pomodorini da mangiare poi in freezer c'ho i fagiolini c'ho le coste perché le ho tagliate e messe in freezer si verdura ne ho sinceramente perciò non ho preso tanto ecco avevo finito il latte avevo finito il pomodoro perché devo fargli la devo fargli lo spezzatino appunto anche le uova perché devo fare le polpette e basta non ho preso chissà cosa ecco l'acqua avevo quasi finito anche l'acqua ma sapete che c'ho le mani congelate congelate perché ragazzi qua oggi allora è nuvoloso prima pioveva però è quel tempo che è tra come le zucchine tra le mosce e le dure ecco non sa né di carne né di pesce però di notte qua fa ancora freddo perché anche stanotte erano 7 gradi ok la mattina pure fa freddo ecco fino a che non viene fuori quel po di sole e poi durante la giornata se sei in movimento prima che stavo pulendo casa avevo caldo adesso ad essermi fermata ok ad essermi fermata c'ho le mani congelate c'ho proprio non freddo c'ho le mani fredde però c'ho il cuore molto caldo bollente c'ho le mani fredde ma il cuore caldo ecco niente ragazzi io ho finito video spesa non ho più preso niente che vi devo dire vi devo solamente salutare ringraziare per tutti quelli che mi seguono se vi va mettete un like se vi va iscrivetevi chi non lo sapesse sotto c'è il cuoricino perché non mi ricordo mai di dirlo c'è il cuoricino sotto con grazie chi volesse fare una donazione chi volesse sostenere il canale basta schicciare il grazie potete fare una donazione di 2 euro 5 euro 10 euro o quel che volete non sto chiedendo le mosina non sto che ragazzi ecco che sia chiaro questo cioè è un'opzione che ha messo youtube è carina per chi vuole farla però sia chiaro che io i soldi per mangiare e per pagarmi l'affitto ce li ho ecco no perché dopo ci sono quelli sapete delle polemiche che chiedono le donazioni è un'opzione che ha messo youtube carina per me è carina ecco chi vuole sostenere il canale per le spese che ci sono di che magari compri qualcosa per il canale le stronzate che compro io per farci i video ecco chi vuole sostenerlo che ho piacere di donare un euro per bere un caffè che non bevo però ecco lo stesso chi vuole lo fa non è obbligatorio chi non vuole non lo fa e arrivederci grazie però sia chiaro che non ne ho bisogno io perché per mangiare la spesa e per l'affitto le mie cose cioè fortunatamente non mancano ecco tanto per cioè non è che so senza ecco comunque detto questo vi ringrazio vi mando un bacio vi do appuntamento alla prossima e mi metto via la spesa ciao